Umana, presto, corre, ti è scappato un topo, chiane? O è un Pokémon? Lo so, sono confuso. Vieni qui, ma dove vai, Umana? Ma dove sei? Insomma, quando ti cerco non ci sei mai, sei sempre in bagno. Hai mal di pancia? Io che pensavo che erano i fuochi d'artificio, quel rumore che sentivo. Roba da matti, comunque c'è già lo slogan per questa casa. Vietato scorreggiare missi ribalti nei Pokémon. Roba da matti, è uno slogan bellissimo. Dai, la tengo io, però sbrigati. Fermati, fermati. Ma dove vai, sei piccolina, non puoi uscire. La tengo, la tengo con tutte le mie forze. Eh, però c'è la pancia gonfia, se scorreggio la cancello. Roba da matti, dai, Umana, dove sei? Io mi sto un po' stufando. Fermati, Pikachu, fermati, che sei piccolina, non puoi andare al Festival di Cannes. Eh, ma io ho un'impegna, devo andare a giocare. Cosa faccio? Sono il dato responsabile o vado a giocare? Aspetta, aspetta un attimo qui che ci penso. Tre, due, uno. Beh, io vado a giocare. Ciao, sei libera. Oh, peccato, mi è scappata. Parblè.